Oggi 12 dicembre 2019, sono qui come pubblico, pubblico a come si vede di fronte, a West My Age. Tra poco la trasmissione incomincia alle ore 15. Conduttore Papi, oggi ci sono due ospiti e questa trasmissione registrata in dicembre va in onda poi in gennaio 2020 all'inizio. Sono qui in questo bel studio, Aldo, il sottoscritto. Purtroppo devo stare qui seduto circa tre ore, ma preferisco così essere ogni tanto partecipe a questa trasmissione tre volte alla settimana, dato che poi in montagna faceva bel freddo oggi e previsioni neve. Ecco di fronte West My Age. Tra poco, tra dieci minuti, inizia lo spettacolo e devo chiudere il cellulare. La mia vita da eremita oggi non lo è, è mezzo agente del pubblico come si vede. E spero di essere contento a questa trasmissione che poi va in diretta in televisione, come ho detto prima, nell'anno 2020. Mi hanno messo già in prima fila vicino agli ospiti. Sono contento della situazione in cui mi trovo e saluto tutti i miei amici youtubisti, quelli che mi ascoltano, una signora di Novate Mezzola anche, altri ragazzi che abitano nei paesi intorno a Piagno. Quella zona lì saluto anche un altro mio amico di nome Sandro e spero che mi vedano poi in televisione in gennaio. Saluti da YouTube di Aldo.